ragazzi c'è chi sogna nella vita di diventare sportivo c'è chi sogna di fare una maratona addirittura c'è chi sogna di fare un Ironman io stesso un giorno spero di poter portare a termine una distanza veramente impegnativa ma da sogno 3 chilometri 8 di nuoto 42 di corsa 180 in bici ovviamente la sequenza è nuoto bici e poi alla fine c'è la maratona ma luca vancusa ha deciso di fare di più in tre giorni tre Ironman ragazzi non vi dico il dislivello non vi dico insomma quanto quanto impegno ci vuole la morale 4 giorni 4 ore al giorno di riposo e riparti insomma questo è luca perciò complimenti a te e chissà un giorno magari mi fai compagnia mentre faccio il mio primo esordio ok un grande complimento e in bocca a lui per tutte le prossime avventure che farai perché dopo che le fate tre passare a 5 10 chissà